Eccoci qua! Bella a tutti dal vostro Gabbo Man! Siamo tornati su PES 2016 perché oggi affrontiamo la Coppa Challenge Online Dobbiamo accumulare sei punti in quattro partite! Se vinciamo naturalmente vinciamo la gente di questa settimana che fa un po' cagà però non ce ne frega una mazza! Allora questo è Team McG col cuoricino allenato da M.A. Russo ci ha messi Pereira Di Maria Hazard Miguel Krikoviak Poi vedo Bonucci, Mathieu, Walker, Caballero credo in porta e un terzino che si chiama Mubandier Allora poi c'ha la cazzetta comunque come panchinaro, c'ha Verratti che non è male, una squadra di tutto rispetto Dobbiamo cercare di vincere la prima partita in corso? Se questo naturalmente si decide a cominciarla, eccola qua Consigli del gioco, ruolo, squadra! Alcuni giocatori molto abili possono anche sviluppare un proprio pisello Va bene, ok, abbiamo capito! Ciascuno ha lo squadra, i suoi effetti, tutto quello che ci pare Istruzioni, squadra in possesso di palla, stili offensivi, vabbè, per attaccare di più, che cazzo ne so io Ce ne frega una mazza, oggi c'ho voglia di giocare, siccome è parecchio che non mi faccio le coppe challenge, le cose Eh, no, un altro consiglio di giocare, tre oggi, che cazzo è successo? Mi sa che ci stanno problemi di lagga allora, perché solo con i problemi di caricamento lo dà Vabbè, provamoci con la regia del Gabone, subito alla prima azione, sa tanto che la, oggi proprio, che cazzo, non è possibile Provamoci, io non mi assicuro niente perché naturalmente la lagga è quella che è Proprio il primo tiro in porta a questo apparato, vaffanculo, passa un'altra azione, Robben, guardate come sgrattuggella la linea Ma io so contro tutto, contro la lagga, me frega un cazzo, entro un'area di rigore, Robben, cerco il primo cross E la camoccia degli agliature, il pisello più duro dei pass, e quindi sull'1-0 con la lagga non mi è mai successo D'annà un vantaggio, questa si stacca, no, parete no Passamo un'altra azione, Schweinsteiger sulla fascia, questo è Cristiano Ronaldo, dagli che voglio il due Dagli che, questo è rigore, questo è rigore, mannaggia quel porco L'arbitro con la lagga si è rincoglionito Quindi io ce riprovo ancora, però questo mi tocca la palla in calcio d'angolo Detto così, mi tocca la palla, pare che mi stanno a toccare i coglioni Allora, Schweinsteiger, guarda quanto cazzo ho caricato No, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato però la chiappata di capoccia Passamo un'altra azione del secondo tempo, guardate i tacchetti, i giochetti Questo è a Ryan Robben, ti, ti, che cazzo, ma che tiro ha fatto? Questo ha fatto, non lo so, un tiro a banana Vabbè, ok Passamo un'altra azione perché è continuo, imperterito Ma guardate i passaggi come arrivano rallentati, non lo so io Questo è a Ryan Robben che recupera la palla Forse, forse, ce l'ho fatta Quanto cazzo ce voleva Due a zero per il Gabbone Passamo un'altra azione perché voglio tre Lo faccio immediato Cristiano Ronaldo, dai a cortino, guarda, scivolata Ne anticipo, ma arriva Neymar da dietro Arriva Neymar da dietro pure, non se fosse Oggi proprio non lo so, è una puntata porno Allora, passamo un'altra azione Questa è un passaggio, no, te prego no Te prego no Mamma mia, Andanovic, mi ha parato una palla De quelle proprio, per i mani in tema Mi ha parato una palla Allora, eccolo qua, dal calcio d'angolo Io mi metto qua, va al centro dell'area di rigore Perché non voglio subire le capocciate Non voglio subire le capocciate La capocciata è arrivata Butta sta palla in angolo E famo finta di niente Ancora calcio d'angolo per lui, naturalmente Questo tranquillo che mo' me la butta dentro Io lo so, io lo so che succede così Butta via sta palla Madonna mia, questo c'è prova da fuori Chiudi tutto Però, oh, mantiene il possesso della palla È incredibile Me sa che è fuori gioco Me sa che è fuori gioco e sto contento Da, la Matosca, non lo so io Va bene così Passiamo un'altra azione Perché sul 3-0 Io non mi arrendo Ne voglio fare un altro Visto che con la lag può succedere tutto Dagli e mezzo E col tiro Oddio Ma pure Yaya Duret Dammi sta palla Eccolo qua Quindi riparto Pogba Robben Passaggi rapidi Guardate l'imbucata Pegnazione abate Ecco il cross Tagli e col tiro Madonna mia Un altro gol Oh, non lo so Oggi sono stato più forte della lag 5-0 per il Gabbone Prima partita portata a casa Mo spero di vincere pure la seconda Perché se ci riuscimo Domani, la prossima puntata Ce fanno lo spacchettamento Allora, Arjen Robben Migliore in campo 7-0 Andiamo subito avanti Questo è l'altro avversario È World 11 C'ha Neymar Sanchez Iniesta Fekir Fabregas Nainggolan Roberto Carlos Baiz E Beis Non lo so Manolas Che è un pisellone De quelli incredibili Licksteiner Neuer C'ha totti in panchina Lì Mortacci C'ha totti in panchina Dammelo a me Che cazzo ce devi fare Lo tieni in panchina Mannaggia quel porco Ma io non lo so Va bene così Allora che è qua Alline Che Sto cercando di leggere Quando batti una punizione Puoi allineare Quando batti una prostituta Vabbè E poi succede Puoi allineare un secondo tiratore Muovendo Non ci frega un cazzo Ottieni GP eseguendo una finta L Che cazzo Che è A regola della L Più sei arto E più c'hai corto No Non lo so Che cazzo Pure qua c'è stata lag oggi Non lo so io Sta succedendo Fosse colpa mia Boh Vabbè Allora S Roma World Come cazzo si chiama Passiamo alla prima azione Questo cerca di buttarmi le palle in rete Quindi va con Neymar La capoccia Guarda che mi segna Per fortuna Non ci è riuscito Va bene così Riuscirò a fare la prima azione Della partita No Non ci riesco Perché riparte con azione De contropiede Oddio 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 Ma sto a vedere brutta Butta via sta pa Guarda che cazzo sto a fare È incredibile E va bene così Mo facciamo sul serio Però Se dovemo ricordare che devo vincere Perché se no la gente non è mia Ignacio Abbate il tiro Subito Subito L'ha parata ancora Un tiro Murato E questo è calcio d'angolo E vabbè Oh Po' succede È un attimo De defiance Dal calcio d'angolo Sempre Schweinsteiger Taglia con la capoccia Voglio ammazzare qualcuno Voglio ammazzare qualcuno Questo riparte in contropiede E va bene così Passo a un'altra azione Perché Ari e Robin Sulla destra Diventano qualcosa Di imprevedibile Ecco il cross E Stava a prova a fare qualcosa Ma Gli Agliature Oddio La ciabatta degli Agliature Se alla partita precedente Mi ha fatto Dubicchi A sto giro Ancora un cazzo Passo a un'altra azione Rapida e veloce Succulenta Ecco Neymar Guardate il tiro Mamma mia All'ultimo secondo Prima della fine Del primo tempo Gol 1 a 0 Per Gabone Passo a un'altra azione Guardate Neymar Mi inserisco Col tiro a giro E quando lo fermi Il tiro a giro De Neymar È qualcosa Di incredibile Passo a un'altra azione Perché oggi sono cattivo Disegno tutti Proprio a filotto E ancora Stai che guarda Che ciabatta Ragazzi 3 a 0 È incredibile Passo ancora Un'altra Oggi Non lo so Quello che mi sta a succedere È la cattiveria Inside Proprio Eccolo C'è riprostato Succede qualcosa Che doveva succede Vabbè Muro tutto quanto Non ho capito Se è mia Se è sua Nel dubbio Passiamo a un'altra azione Zlada Libra Imo vince la ciabatta Li mortacci Me l'ha parata Però sto 3 a 0 Ma che cazzo Voglio pretende Passo a un'altra azione Perché Oh so Proprio Lo so Io L'ignoranza Incredibile Oggi Mamma mia 4 a 0 Del gabbone Perché no Ho combinato Ho combinato Un macello Questo giustamente Si è staccato Si è rotti I cojoni Ti prende Colla Da tutti I pizzi Quindi Se vi è piaciuto Mi raccomando Mettete un bel mi piace Commentate Naturalmente Condividete Iscrivetevi al canale Detto questo Non mi resta che dàvi appuntamento Alla prossima Con un nuovo Video di Pest 2016 Come promesso Ci facciamo lo spacchettamento Con gli agenti Che abbiamo vinto A regà Bella A tutti Ciao